Allora, ti volevo far sentire questa cosa in mezzo, non è? Anche perché voglio dire gli accordi, c'è no? Gli accordi vediamo se sono scritti giusti perché era un coma Che poi è difficile scrivere quei messaggini gli accordi, eh? No, no, no L'hai fatto bene? Sì Allora D infantry E o non fai Verzi Che rafforzate Non so se far sentire bene, però è bello anche il fatto che siamo in una... Nena, nena, nena... Guardi qui su di me, ma di tua difesa... No, non sarò, viderò, ma non sei, ma non sei sarà... Ma non vuole l'odio, io lo so come canto, lo so... Ma dov'è che cantando sarò? Ma... Ma staventomi, fai un buon viaggio della vita che non c'è, c'è mai, ma non è... Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!